La Commissaria Europea per gli Affari Interni, Ilva Johansson, ha inviato mercoledì una nuova lettera al governo ungherese, chiedendo ulteriori spiegazioni per la sua decisione di estendere al National Car System anche a cittadini di nazionalità russa e bielorussa. La Commissaria ha fatto sapere di aver inviato una seconda lettera dopo quella ricevuta due settimane fa dalle autorità ungheresi, in risposta alla richiesta di chiarimenti di Bruxelles di luglio. Il nuovo programma di immigrazione ungherese consenta ai lavoratori stranieri di alcuni paesi extra-UE, tra cui Russia e Bielorussia, di rimanere nel paese per almeno due anni e può aprire la strada alla residenza permanente. Il National Car System era originariamente accessibile a cittadini serbi e ucraini. Tra i botte in risposta a distanza, l'Ungheria accusa di un po' 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 di un po'. Tra i botte in risposta a distanza, l'Ungheria ha accusato il Parlamento europeo e alcuni stati membri di isteria politica. Per la Commissaria Johansson, il vantaggio nazionale a livello economico sembra limitato e sproporzionato rispetto alla minaccia potenziale per la zona Schengen. Non ancora chiaro a Bruxelles il motivo per cui il governo ungherese ritenga il sistema di visti necessario e appropriato alla luce dell'attuale situazione politica.